Capita che a me, spesso Com'è? Si fa? Si riesce a fare no? Sì, seguimi Ma la sta già facendo al contrario Ma tu la vuoi fare dritta al contrario Seguimi È al contrario Dopo la prova Qu'è? 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 Che marcia hai fatta? No, le ho messo in giù i piedi perché? No, ma che marcia eri? Ho scortato la leva del freno Adesso? No, sono pronto Adesso la svolto La chiudere No, però non ci fa Sì, sì, perché non la sapevo Mi sono fermato Certo, certo E' tutta da guidare piano piano No 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 Grazie.